Ciao, in America ieri era il giorno del ringraziamento e oggi è il Black Friday, il venerdì nero, giornata di apertura dello shopping natalizio, con grandi offerte e promozioni. Noi non siamo americani, ma abbiamo molti, moltissimi motivi per ringraziare tutti i nostri clienti. Per questo abbiamo deciso di regalarti un buono, del valore di 5 euro, da utilizzare su ciò che vuoi senza minimo d'acquisto, ogni 40 euro di spesa. Attenzione, perché avete tempo solo fino a domani, sabato 25 novembre, per approfittare della promozione. Manca meno di un mese natale, approfitta di questa occasione per iniziare a prenotare i tuoi regali di Natale. E se non sai dove nasconderli, non ti preoccupare, li incartiamo e li custodiamo con cura finché vorrai. E il tutto, totalmente gratuitamente. Ricordati, per rimanere aggiornato su novità e promozioni, metti mi piace e segui la pagina. Ti aspettiamo in negozio per i tuoi regali. Ciao, a presto!